Noi sentiamo il dolore, ma non l'assenza del dolore. Sentiamo la preoccupazione, ma non l'assenza della preoccupazione. La paura, ma non la sicurezza. Sentiamo il desiderio, così come la fame e la sete, ma non appena è soddisfatto, succede come per il boccone, che nel momento in cui viene inghiottito cessa di esistere per la nostra sensibilità. Sentiamo amaramente la mancanza di piaceri e di gioie quando non ci sono. Nei dolori, invece, non sentiamo direttamente la mancanza, anche se non ne proviamo da parecchio tempo. Tutto al più ce ne ricordiamo per mezzo della riflessione. Solo dolore e mancanza, infatti, possono venire sentiti positivamente e dunque si fanno sentire da sé. Il benessere, invece, è solo in negativo. Perciò noi ci rendiamo conto direttamente dei beni più grandi della vita, salute, giovinezza e libertà solo quando le abbiamo perdute, perché anche esse sono negazioni. Nei giorni felici della nostra vita ci accorgiamo solo quando hanno ormai lasciato il posto a giorni infelici.